L'Oceano Adriatico è più di un progetto, è un progetto creato insieme a degli attori, in primis la cooperativa Labirinto che è l'ente attuatore di questo progetto, ma con tanti giovani e rappresentanti del nostro territorio. Un progetto che parla alle nuove generazioni, un progetto che parla agli studenti del nostro territorio che anche sabato hanno dato modo di farsi conoscere sia per entusiasmo che come presenza, ma anche un modo di lavorare che noi adoriamo e che vogliamo ancora di più incentivare. Uno strumento, c'è un Adriatico che si svilupperà all'interno dei 12 mesi fino alla fine di questo 2024 che parte mercoledì 24 gennaio al Gra e che avrà occasione di incontro, scambio e conoscenza per i giovani legati al mondo musicale. Il primo progetto è dedicato al rapporto tra città e la musica, e il secondo sono una serie di concerti di musiciste internazionali e italiane in luoghi non usuali della musica, finalizzati ad un pubblico di ogni età, nel senso di ogni genere di gusto, ma l'idea lì è anche di permettere a gruppi musicali o artisti musicali pesaresi di aprire questi concerti. La terza parte, il terzo progetto, musica, sostantivo, plurale, femminile, tematizza proprio il tema del genere, il rapporto tra il genere e la musica, perché oggettivamente sono meno le donne che fanno musica, perché oggettivamente il pubblico è costituito per la maggior parte di donne, partendo da questi dati banali, come dicevo prima, andiamo a allargare, a complessificare la situazione per cercare di capire anche per quello che si può, e attraverso la costituzione di un coro femminile, che lavorerà, che si costituirà apposta per un evento di fine anno, di canzoni tradizionali che percorrono la donna nel corso della storia, proprio dal rinascimento a oggi, canzoni popolari che noi conosciamo, interpretate da un coro, e dall'altra far incontrare studenti, studentesse pesaresi, far incontrare loro musicisti e musicisti che professionalmente sono dentro il mondo della musica, professionalmente hanno a che fare con il mondo dei talent, ad esempio, per raccontino e chiacchierino un po' insieme, per permettere anche una conoscenza dell'ambiente musicale, al di là di quello che è l'apparenza che noi abbiamo come pubblico, diciamo, esterno.